Una finale di stagione che ti vede ancora in grande condizione e questa tra le classiche non può che essere la tua preferita? Sicuramente, ci tengo a dare il massimo fino alla fine, oggi è l'ultima gara, quindi sono contento anche di giovedì, della Milano-Torino, ma questa è una gara molto importante, spero di fare qualcosa, di farmi vedere e questo è importante. Le condizioni ci sono per attaccare oggi la chiave tattica? Sicuramente non sono al 100% della mia condizione, però l'importante è metterci sempre grinta e cuore.